...sabato con la giornata degli Open Data e che oggi invece vede l'avvio delle attività svolte dalla Formez. All'interno di questa settimana abbiamo deciso come Formez di tenere 5 webinar su 5 temi che sono cruciali sia per l'OGP Plan che per le riforme della pubblica amministrazione. Quindi iniziamo oggi con il FOIA, domani con un webinar sui social network, poi Open Data, Speed e consultorazioni pubbliche anche per presentare il lavoro che è stato portato avanti sul sito open.gov.it. L'abbiamo fatto con dei webinar che mettono insieme sia la parte di approfondimento e diffusione che è la presentazione di singoli casi o esperienze di amministrazioni e di realtà della società civile che riteniamo interessanti. Un po' con il modo di lavorare del Formez e anche lavorando con l'OGP Team che alla funzione pubblica ha permesso la pubblicazione di questo piano così intenso e innovativo. Quindi buon lavoro a tutti e spero che ci seguirete anche per i prossimi giorni. Perfetto, grazie mille. Abbiamo anche un video dello spot che sta girando in questi giorni sulle reti Rai. Io proverei a vederlo, però se dovessero esserci problemi segnalatecelo in chat, dura 30 secondi e lo potete recuperare anche su YouTube. Però mi sembrava un buon modo per introdurre questa settimana e integrare l'informazione che ci ha dato la dottoressa Leonori. Il video lo faccio partire subito. Purtroppo con i video potremmo avere qualche problema. Speriamo che vada tutto bene. La pubblica amministrazione si muove e si trasforma. Diventa più semplice, digitale e trasparente. Ed è solo l'inizio. Vieni a scoprire cosa cambia dal 4 all'11 marzo durante la settimana dell'amministrazione aperta. Perché tu puoi fare la mossa in più. Pubblica amministrazione aperta. Partecipazione è la soluzione. Visita il sito open.gov.it Spero che si sia visto. Sì, purtroppo qualcuno di voi ci segnala che il video non arrivava in maniera fluida. Comunque potete rivederlo su YouTube all'indirizzo che vi giro adesso nella chat pubblica. E anche sull'account Twitter di OGP Italia. Perfetto. Allora, arriviamo alla giornata di oggi. Abbiamo detto che abbiamo un ciclo di 5 webinar tutti i giorni. Se vi siete iscritti al primo o soltanto a questo webinar vi invitiamo a iscrivervi anche ai successivi. Non è necessario iscriversi a tutti i webinar e quindi non vale una singola iscrizione. Per cui per iscrivervi è sufficiente andare sulla pagina di Eventi.pa e cliccare sul pulsante iscriversi. Iscriviti dopo aver fatto il login. Arriviamo alla giornata di oggi. Oggi parliamo, come sapete, di FOIA. Con il foglio italiano, decreto 97 del 2006, entrerà in vigore il 23 dicembre scorso, qualunque cittadino senza bisogno di legittimazione soggettiva e al di là degli obblighi di pubblicazione già stabiliti dall'ecreto 33 del 2013, può esercitare un nuovo diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni. Questo webinar di oggi seminerà le novità introdotte dal FOIA, vedete già in webcam l'avvocato Ernesto Belisare, si soffermerà in particolare sulle procedure che le PA devono adottare per gestire le richieste di accesso secondo le due linee guida ANAC sugli obblighi di pubblicazione e limiti di esclusioni, oltre a presentare anche alcuni casi già sperimentati di prove di accesso. Come avete già visto, il primo intervento sarà dell'avvocato Ernesto Belisario, che ci parlerà della normativa di riferimento di questo nuovo decreto. Poi daremo la parola a due testimonianze, una da parte di una pubblica amministrazione, la dottoressa Marta Bachechi dell'ARPAT Toscana, e un'altra invece di un giornalista, Guido Romeo, molto attivo su questi temi, già prima dell'approvazione del decreto. Quindi sono le 12.10, io non rubo ulteriore tempo ai relatori, do la parola all'avvocato Ernesto Belisario e disattivo la mia webcam, dopo aver sentito la sua voce e quindi la conferma del fatto che si senta bene. Prego avvocato. Buongiorno, si sente? Mi sentite? Mi date una conferma anche in chat che mi sentite? Dunque, buongiorno a tutti, è bello vedervi qui così in tanti, per tanti motivi, perché parliamo di un tema sicuramente molto importante e perché è il modo probabilmente migliore per celebrare, come diceva il commissario Leonori, questa settimana dell'amministrazione aperta che nasce con l'obiettivo non tanto di parlare genericamente di determinati temi o di quanto sono importanti, ma di provare a fare uno scatto in termini di dimensione culturale e oggi infatti noi non parleremo genericamente del Decreto 33 o delle tante novità previste dalla riforma del Decreto Registrativo 33 del 2013, così come modificato dal Decreto 97, ma parleremo del FOIA guardato con gli occhi di un'amministrazione, almeno nell'ambito del mio intervento. Dopo il mio intervento ci sarà quello di un'amministrazione che ha già applicato una norma simile al FOIA, che è la normativa sull'accesso all'informazione ambientale, che è l'ARPA toscana appunto, che ci racconterà la sua esperienza, cioè come deve essere organizzata e strutturata un'amministrazione per poter far fronte a una normativa di questo tipo e concluderemo con l'intervento di un utente dell'amministrazione, che quindi ci spiegherà quello che vede l'utente quando si interfaccia con un'amministrazione chiedendo dati e informazioni. A me ovviamente da avvocato tocca fare la parte più noiosa, che è quella della introduzione normativa, quello di definire, di mettere i paletti. Proverò a farlo nel corso dei prossimi minuti con la modalità migliore che mi riesce. Ovviamente diamo una precisazione, al momento siete oltre 600 e quindi diventerebbe difficile riuscire ad aprire una sessione di domande e risposte, voi però scrivete in chat quelle che sono le domande, le perplessità o le questioni che ritenete aperte e noi e lo staff di Formez, che ringrazio molto per la disponibilità e per affrontare uno sforzo di questo tipo, le terranno sicuramente da parte e proveremo a in qualche modo darvi una risposta, magari con successive iniziative, se proprio oggi non ce la si fa. Bene, comincio da questa slide. Perché una giornata come quella di oggi è importante? Non lo dice Ernesto Berisario, che per chi lo conosce da tempo si occupa, si interessa ed ha voluto che ci fosse il Freedom of Information Act italiano, lo dice il Consiglio di Stato. Il problema e il tema non è approvare una norma. Questo è un estratto dal parere che il Consiglio di Stato ha reso un anno fa all'incirca sulla bozza di schema di decreto che poi sarebbe diventato il decreto 97 del 2016. Il Consiglio di Stato dice sì, certo, abbiamo modificato la normativa in materia di trasparenza, ma questo vale per ogni riforma dell'amministrazione. Ma attenzione che lo sforzo non deve limitarsi unicamente alla pubblicazione della norma in gazzetta ufficiale. Cito e leggo testualmente. Certo, nemmeno la redazione dei decreti attuativi è sufficiente. L'esperienza internazionale insegna che sempre più spesso le riforme si perdono nelle prassi amministrative e conservative, nel difetto di un'adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese che non riescono a conoscere e quindi a rivendicare i loro nuovi diritti. Bene, questa è una frase che contiene i motivi per cui siamo qui oggi. L'esperienza internazionale, dice il Consiglio di Stato, ma in realtà potremmo dire anche l'esperienza nazionale, ci dice che le riforme sono destinate a rimanere sulla carta a se le amministrazioni non le applicano in modo evoluto. Le prassi amministrative conservative sono nascoste dietro la frase che spesso si sente negli uffici pubblici, abbiamo sempre fatto così, continuiamo a fare così. Per esempio è capitato di leggere in alcune richieste che sono state inviate nella prima fase di applicazione del decreto sul Freedom of Information Act, una risposta di un'amministrazione che in richiesta ad un determinato documento diceva che non è prassi di questo ufficio divulgare questa informazione. Il problema non è se è stata prassi fin qui, ma oggi c'è una norma nuova che quindi non si presta ad una prassi amministrativa conservativa e anche qui se le amministrazioni hanno una prassi amministrativa conservativa, la colpa probabilmente non è del legislatore ma dell'amministrazione stessa. Importantissimo, perché viene dal Consiglio di Stato, è il riferimento alla adeguata informatizzazione. Badate bene, lo ribadiremo tra un po'. Possiamo parlare di un'amministrazione trasparente solo se parliamo di un'amministrazione digitale, perché? Perché il vero nodo complesso, e immagino lo dirà la collega di Arpa Toscana più tardi, il vero nodo complesso non è tanto l'interpretazione della norma, certo all'inizio magari avremo dei punti che sono critici, che sono problematici, ma il vero nodo critico della norma è l'organizzazione dell'archivio, perché tanto meglio organizzato l'archivio e ovviamente nel 2017 deve essere un archivio informatico, quello dell'amministrazione, tanto più facilmente io riuscirò ad individuare i documenti a cui l'utente vuole avere accesso e a trasmetterli e a comunicarli. Dopodiché un altro ostacolo che indica il Consiglio di Stato è il mancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici e anche in questo caso, ad esempio, diciamone uno, uno dei meccanismi che devono essere sicuramente fatti propri dagli operatori è l'inesistenza, lo ribadiremo tra un po', della possibilità di esprimersi in modo silenzioso, il nuovo diritto di accesso generalizzato richiede espressamente un provvedimento dell'ente, quindi anche in questo caso apprendimento dei meccanismi significa fare in modo di organizzarsi per riuscire a dare un riscontro in 30 giorni. E poi nel difetto di comunicazione con cittadini e imprese che non riescono a conoscere e quindi a rivendicare i loro nuovi diritti. Questo webinar è aperto ovviamente anche a semplici cittadini, anche se la gran parte degli utenti e dei nomi che mi par di vedere sono operatori dell'amministrazione e ho loro consulenti e formatori, però qui il tema è il difetto di comunicazione nei confronti con i cittadini a cui a dobbiamo dire che hanno questo nuovo diritto e b con cui dobbiamo in qualche modo comunicare affinché scrivano le istanze in modo giusto, ad esempio se l'utente mi fa una istanza che mi richiede una estrazione, quindi che mi richiede una elaborazione, evidentemente quella istanza è destinata ad essere rigettata, ma perché? Perché l'amministrazione è chiusa, no? Perché l'utente verosimilmente invece di richiedere i documenti e le banche dati in cui è contenuta questa informazione ha richiesto direttamente l'estrazione della stessa, quindi anche in questo caso far conoscere agli utenti quali sono i loro diritti fuori da un approccio burocratico significa evitare anche di essere messi in condizione di adottare dei provvedimenti negativi nel rispetto della normativa. Bene, provo ad andare veloce a questo punto, fatta questa introduzione che ci spiega come la norma è lì, ma per far funzionare la norma abbiamo necessità di organizzarci e di comprenderla e di cambiare le nostre prassi organizzative. La norma sul diritto di accesso generalizzato dove è inserita? È inserita come la gran parte di voi sicuramente sa all'interno del decreto 33 del 2013. Il decreto 33 del 2013 nato inizialmente come norma che conteneva l'elenco degli obblighi di pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni è stato arricchito a seguito della riforma della pubblica amministrazione legge 124 del 2015 articolo 7 con la introduzione di questo diritto di accesso generalizzato. Questo diritto di accesso generalizzato quindi diventa la seconda gamba della trasparenza, quindi quando parliamo di trasparenza amministrativa oggi intendiamo un corpo che si muove su due gambe. Una prima gamba è la trasparenza proattiva, cioè la pubblicazione, gli obblighi di pubblicazione sui siti delle amministrazioni a cui corrisponde un diritto di chiunque di trovare quelle informazioni sui siti. La seconda gamba del corpo trasparenza è la cosiddetta trasparenza reattiva e cioè l'obbligo dell'amministrazione di rispondere alle richieste di accesso che chiunque può fare per accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Questa disciplina normativa è tutta all'interno del decreto 33 che quindi diventa come possiamo dirlo il diritto di accesso generalizzato e il diritto di accesso ai dati e documenti diventa quindi il vero e proprio testo unico sulla trasparenza dell'amministrazione. Come ho detto prima la digitalizzazione della pubblica amministrazione è sicuramente un presupposto, la PA trasparente è una PA digitale, nel frattempo chiedo a Gianluca di darmi conferma che l'audio perché leggo qualche messaggio in chat da parte dei partecipanti che l'audio non è chiaro e si blocca giusto per aver conferma di parlare con un seguito. Perfetto, grazie anche agli altri per il feedback. Dicevo proviamo innanzitutto a capire quali sono i soggetti che devono rispettare la normativa sull'accesso generalizzato. La parte relativa all'ambito soggettivo di applicazione è contenuta all'articolo 2 bis del decreto 33 del 2013. Quali sono i soggetti quindi a cui si applica il diritto di accesso generalizzato? Sono le pubbliche amministrazioni in senso stretto, articolo 1,2 165 del 2001 e quindi ministeri, regioni, città metropolitane, province, comuni, comunità montane e poi via discorrendo, tutte le altre scuole, università, camere di commercio e enti al servizio sanitario a cui vengono aggiunte anche le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti. Dopodiché abbiamo anche gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, così come definiti all'interno del testo unico sulle partecipate decreto 174 del 2016, le società partecipate stesse e gli enti di diritto privato finanziati e o controllati da parte della pubblica amministrazione. Ovviamente questo significa avere un ambito di applicazione assai elevato, faccio presente come potrete constatare dalla lettura dell'articolo 2 bis come naturalmente ai soggetti che invece hanno un inquadramento di tipo privatistico la normativa si applica in quanto compatibile e questo ovviamente dovrà essere opportunamente valutato e valorizzato. Quando ho detto e l'ho fatta facile che il decreto 97 ha introdotto il diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti all'amministrazione, non ho detto una cosa che già qualcuno di voi ha fatto notare in chat, per cui magari vi chiedo se capisco che molti di voi siano già arrivati con il proprio carico di dubbi e di perplessità, magari vi chiedo di seguirmi e poi magari alla fine della mia trattazione mi direte quello che è rimasto in sospeso. Dicevo, il decreto introduce un nuovo diritto, introduce un nuovo diritto in un ordinamento in cui abbiamo già tanti altri diritti di accesso, c'è qualche amico che a mo' di battuta dice che ormai nel nostro ordinamento giuridico ci sono più accessi che sul grande raccordo anulare. Ecco quello che è un quadro, le norme vigenti sui diritti di accesso ci parlano innanzitutto del diritto di accesso documentale, il diritto di accesso 241 della legge 241 del 1990, capo quinto, articoli 22 e seguenti. Dopodiché abbiamo il diritto di accesso civico di cui è l'articolo 5,1 del decreto 33, poi abbiamo il diritto di accesso generalizzato che è quello che viene introdotto dall'articolo 5,2 del decreto 33, poi abbiamo i diritti di accesso del consigliere comunale provinciale previsti dal testo unico decreto legislativo 267 del 2000, poi abbiamo il diritto di accesso del cittadino del comune e della provincia, articolo 10 del decreto 267 del 2000 e poi abbiamo il diritto di accesso all'informazione ambientale su cui sicuramente si soffermerà la collega di ARPA Toscana, decreto legislativo 195 del 2005. Quindi come vedete abbiamo diverse norme vigenti. La domanda che mi viene fatta molto spesso è, Avvocato, ma qual è il rapporto tra il diritto di accesso generalizzato e questi precedenti diritti? Beh, provo a dirvelo in modo più semplice possibile. Innanzitutto gli altri diritti di accesso sono diritti che sono abbastanza specifici, cioè si riferiscono o ad una determinata categoria di soggetti che può richiederla, quindi una legittimazione soggettiva ristretta, oppure si riferiscono ad una serie di atti che sono ben individuati ad oggetto ristretto. Penso ad esempio al diritto di accesso documentale, il diritto di accesso 241 non è un diritto che può essere rivendicato da tutti, ma solo da chi in relazione a quel determinato atto possa vantare una posizione personale, concreta, diretta, attuale, giuridicamente rilevante. Quindi come vedete solo il soggetto che è titolato a partecipare al procedimento amministrativo? E questa è una prima risposta che dobbiamo dare. Molti imputano al decreto 33 del 2013 e al decreto 97 che l'ha modificato di non aver abrogato l'accesso 241 del 90. In realtà sono due accessi diversi che non hanno pericolo di entrare in conflitto, in quanto il diritto di accesso 241 potrà essere posto in essere da chi deve partecipare al procedimento amministrativo, perché l'accesso 241 non è mai stato un accesso con finalità di trasparenza amministrativa, tant'è che l'articolo 24,3 della legge 241 diceva espressamente che in nessun caso il diritto di accesso può essere utilizzato al fine di consentire un controllo generalizzato dell'operato della PIA, cioè si diceva guarda che il diritto di accesso 241 esiste solo se devi partecipare al procedimento, per tutti gli altri non funziona. Il diritto di accesso civico invece, articolo 5,1, in realtà si chiama diritto di accesso nominalmente, ma in realtà è una richiesta di pubblicazione, cioè voi sapete perfettamente che si tratta dell'istituto a cui si può ricorrere se l'amministrazione aveva l'obbligo di mettere qualcosa sul sito e non l'ha fatto e quindi noi di fatto la stiamo diffidando a farlo nel termine di 30 giorni seguente. Dopodiché esistono altri diritti, c'è il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali che in virtù della loro propria funzione di sindacato ispettivo hanno un diritto di accesso molto pervasivo ai dati e documenti contenuti all'interno degli archivi dell'amministrazione, su cui tra l'altro c'è una copiosissima giurisprudenza amministrativa. Poi abbiamo il diritto di accesso, questo è anche molto sottovalutato e tra l'altro abbastanza sconosciuto, mi fa sorridere quando c'è qualcuno, addirittura alcune volte capita anche a qualche collega che dice che noi abbiamo scimmiottato con il FOIA qualcosa che arriva dall'estero, in realtà non è vero, già dal 1990 la legge 142 è poi confluita nel decreto 267 e aveva inserito questo mini FOIA comunale e provinciale, cioè il diritto di accesso del cittadino residente nel comune o nella provincia di accedere ovviamente con l'obiettivo della partecipazione agli atti del comune e della provincia senza dover dettagliare l'interesse. Questo ovviamente serviva proprio a consentire, dice, io presumo l'interesse del cittadino residente nel comune o nella provincia per accedere a quegli atti. Dopodiché ho il diritto di accesso all'informazione ambientale, 195 mi dice che chiunque ha diritto di accedere all'informazione ambientale senza dover spiegare perché, anche in questo caso si tratta di un diritto di accesso derivazione comunitaria, perché quella è una normativa di riferimento che si applica solo ad una norma ben specifica. A questo si aggiunge il diritto di accesso generalizzato e allora come si concilia il rapporto tra il diritto di accesso generalizzato e il diritto di accesso documentale? Non v'è dubbio che se io sono un interessato io dovrò continuare probabilmente ad utilizzare la disciplina della legge 241 del 1990, mentre se io interessato a quel procedimento amministrativo non sono il proprietario del fondo limitrofo a quello in cui si stanno facendo i lavori, non sono un partecipante al concorso gli elaborati dei cui vincitori voglio vedere, non ho partecipato alla gara d'appalto della cui aggiudicatrice voglio vedere l'offerta tecnica, allora io dovrò utilizzare il diritto di accesso generalizzato. Secondo me dal punto di vista dell'amministrazione ha senso ragionare in questi termini a approvare, ma questo ce lo racconta già anche nell'ambito della delibera 1309 del 2016, adottare un regolamento sui diritti di accesso in cui prevedere quantomeno un unico regolamento su diritto di accesso 2490, diritto di accesso civico, quello cioè articolo 5,1 richiesta di pubblicazione e diritto di accesso civico 5,2. Nell'ambito di questo regolamento, oltre a disciplinare proprio per far fronte a quello che dice il Consiglio di Stato, comunicazione con i cittadini e le imprese, quindi oltre a comunicare le diverse modalità e le diverse caratteristiche degli accessi in modo da far comprendere a ciascuno e da guidarlo nella richiesta di quello che effettivamente gli serve e anche in questo caso la domanda ma non risponde a criteri di semplificazione sarebbe come imputare ad una causa automobilistica di far diversi modelli e non un modello, è chiaro che la causa automobilistica non fa più modelli per venire incontro alle nostre esigenze e quindi sta a noi per scegliere qual è l'autovettura, non è la causa automobilistica che fa confusione, siamo noi che dobbiamo comprendere se vogliamo essere cittadini consapevoli qual è lo strumento più adatto a tutelare le nostre esigenze in questo caso e l'auto più adatta al nostro percorso nel secondo caso. La cosa interessante che secondo me è necessario valorizzare è che il regolamento deve menzionare un'ipotesi, l'ipotesi in cui cioè l'utente non dichiari il titolo giuridico della richiesta, facciamo conto io sono un richiedente, io posso dire faccio questa istanza da cittadino del comune della provincia, faccio questa istanza esensi dell'articolo 22 241 del 90, in questo caso non ho dubbi che per l'amministrazione il titolo giuridico dichiarato dall'utente sia assolutamente importante per esaminare l'istanza, quindi se l'utente mi ha fatto una richiesta 241 del 90, io la esamino i sensi da 241 del 90, resta da capire cosa devo fare se l'utente non mi ha segnalato niente, se così fosse il suggerimento che vi do è di prevedere all'interno del regolamento sugli accessi che in quel caso l'amministrazione se è fatta una richiesta di accesso che non dettaglia un titolo e quindi una norma ai sensi della quale viene fatta, queste istanze saranno trattate ai sensi delle norme sull'accesso generalizzato, cioè articolo 5,2. Bene, accesso civico nuovo l'ho chiamato, generalizzato lo chiama ANAC, FOIA lo chiamano alcuni anche noi nel titolo di questo seminario per poterlo identificare chiaramente, articolo 5,2 dice allo scopo di favorire forme diffuse sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 5 bis. Cosa dice l'articolo 5,2? Di fatto introduce un nuovo diritto, il diritto di chiunque, legittimazione soggettiva la più ampia possibile, persona fisica, cittadino, italiano, cittadino straniero, apolide, persona giuridica, associazione riconosciuta, non riconosciuta e via discorrendo, ha diritto, posizione giuridica soggettiva piena, tutelabile di fronte al giudice amministrativo, di ottenere i dati e i documenti presenti, detenuti dalle amministrazioni, quindi non formati, qual è il vincolo? Il vincolo è basta che il dato e il documento sia detenuto dall'amministrazione, cioè sia nel suo archivio, anche se formato da altri, naturalmente questo significa rispondere ad un'altra domanda che di solito viene fatta, ma se la richiesta si riferisce a documenti che erano già formati prima del 23 dicembre 2016, data di entrata in vigore di questa norma, allora che cosa significa? Questa norma deve essere applicata anche a quei documenti? Sì, basta che alla data di entrata in vigore di quella norma i documenti fossero detenuti dall'amministrazione. Bene, provo a fare con questa slide un po' un riepilogo di procedimento, cercando di capire in parte quali sono i requisiti normativamente previsti e in parte quali sono, secondo me, quelle che saranno le prescrizioni che le amministrazioni dovranno adottare nei loro regolamenti, alcune delle quali già sono state adottate da alcune amministrazioni. Allora, il primo, la richiesta può essere presentata da chiunque, come può essere presentata? Può essere presentata anche telematicamente, quindi l'utente può venire allo sportello, l'utente può inviarla telematicamente e l'utente può inviarla a mezzo posta. Leggevo prima, c'era un Ciro Spataro che sollevava la necessità di avere un format per le stanze di accesso generalizzato, posto che mi sembra che ce ne siano di ben fatte, cito il modello presente sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, tanto per rimanere in casa dell'organizzazione che ha voluto il decreto 33. Dicevo, il modello di accesso generalizzato deve essere davvero molto leggero, io devo richiedergli giusto i dati identificativi, nome e cognome, e dopodiché gli devo chiedere quali sono i dati e documenti che vuole, non mi deve spiegare perché, non mi deve dire che è legale rappresentante di un'impresa, non mi interessa, è assolutamente irrilevante che Ernesto Berisario lo faccia in virtù di legare rappresentante dell'impresa come persona fisica o come mero interessato. Dopodiché, quello che è invece importante, chiedere all'utente come intende ricevere il dato o il documento che ha richiesto, quindi se c'è una lezione di domicilio digitale o meno, e quindi l'indicazione del recapito a cui intende ricevere i documenti e i dati che sono stati richiesti. Questo è importante perché nell'accesso generalizzato non c'è accesso fisico presso l'ufficio, ma l'accesso generalizzato equivale a trasmissione, quindi una volta che io ho inteso che Ernesto Berisario ha diritto di accedere a determinati documenti, io necessariamente devo trasmettere, quindi per me diventa importante avere questo elemento. L'esercizio non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva, la richiesta di accesso generalizzato può essere presentata a più soggetti. Questi soggetti sono A, il soggetto che detiene gli atti, se io lo conosco, B, l'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico se esistente, C, un altro ufficio individuato dall'amministrazione e ovviamente reso noto sulla sezione amministrazione trasparente. Su questo consentitemi una precisazione. Quando l'articolo 5 parla di queste tre figure, sta parlando di tre figure a cui può essere indirizzata e presentata la richiesta, non dei soggetti che sono titolati a provvedere su di essa. Anche in questo caso questo è dimesso all'autonomia organizzativa dell'amministrazione e quindi si tratta di una prescrizione che dovrà essere prevista all'interno del regolamento sugli accessi e l'amministrazione. Se posso dare un piccolo suggerimento, l'idea è quella di fare in modo che queste richieste arrivino ma vengano smistate in prima istanza al soggetto che detiene il dato del documento. Perché? Perché il soggetto che detiene il dato del documento A è il soggetto che è in condizioni meglio di capire quali sono i dati e i documenti a cui si riferisce l'utente, perché li gestisce, B è il soggetto che più facilmente è in condizioni di identificare i controinteressati. Visto che questo è un processo che si deve chiudere in 30 giorni, è evidente che io ho necessità di avere un presidio veloce. Ovviamente anche se le vostre amministrazioni volessero lavorare in modo diverso, non suggerirei mai di avere delle istanze su cui debba procedere il responsabile della trasparenza, perché ricordate che il responsabile della trasparenza è chiamato a valutare le istanze di riesame, quindi se lui facesse anche la risposta all'istanza in primo grado, farebbe primo grado il riesame, quindi tendenzialmente sarebbe frustrata ogni esigenza di riesame. L'oggetto delle istanze di accesso generalizzato non deve essere dettagliato, cioè non devo individuare il numero di protocollo, il firmatario del documento, cioè è sufficiente che l'utente ci dica quali sono nelle istanze i documenti a cui vuole avere accesso. L'importante è che l'utente si faccia capire, dopodiché è sempre utile se proprio la richiesta dell'utente è eccessivamente vaga, prima che arrivare dopo 30 giorni ad un rigetto che è un rigetto eccessivamente burocratico, io dovrò magari chiedere chiarimenti al mio richiedente. L'accesso è sempre gratuito, ricordiamoci, questo era già nella 241 del 90 l'accesso è gratuito, in questo caso, nel caso del FOIA, io posso chiedere semplicemente il rimborso dei costi documentati per la riproduzione sui supporti materiali. Quindi l'amministrazione riceve distanza, la smista al soggetto competente a provvedere, questo soggetto cerca di capire quali sono i documenti a cui l'utente si riferisce, a quel punto deve verificare subito se esistono dei controinteressati, se esistono dei controinteressati interessati, deve fargli la comunicazione e attendere 10 giorni dalla ricezione di questa comunicazione eventuali opposizioni. Ovviamente in questi 10 giorni il termine dei 30 giorni entro cui l'amministrazione è tenuta a provvedere rimane sospeso. Ovviamente io sto provando ad andare veloce, ma una cosa dobbiamo dircela, la sospensione del termine non parte dall'invio della comunicazione contro interessati, ma dalla ricezione, quindi facciamo questa comunicazione con gli, la facciamola subito perché se la faccio al 25esimo giorno già difficilmente riuscirò a rispettare il termine e soprattutto facciamola con gli strumenti magari telematici se abbiamo degli utenti che hanno un indirizzo di posta certificata meglio con lo strumento che ci consenta una maggiore speditezza. Le istanze di accesso generalizzato, devono concludersi sempre con un provvedimento espresso e motivato, quindi non c'è possibilità legittima di avere un silenzio, nel caso in cui l'amministrazione fosse silenziosa a mio avviso sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti del soggetto che doveva dare una risposta nei 30 giorni e non l'ha fatto per l'applicazione delle sanzioni previste proprio dal decreto 33. Il provvedimento espresso e motivato può essere di due tipi, può essere sì accolgo la richiesta di accesso generalizzato e ti trasmetto i documenti, naturalmente nel caso in cui l'accoglimento dell'istanza avvenga in presenza di un controinteressato, di uno o più controinteressati, ci sarà un onere dell'amministrazione di motivazione, cioè l'amministrazione dovrà motivare a contraris in ordine alle opposizioni che sono state fatte dal controinteressato. E tra l'altro l'articolo 5 mi dice che se c'è stata una opposizione del controinteressato io non posso subito dire se c'è un controinteressato, io non posso immediatamente trasmettere i documenti, ma dovrò comunicare sia all'istante che al controinteressato l'accoglimento dell'istanza, dopodiché dovrò aspettare almeno 15 giorni prima di dare i documenti onde consentire la possibilità di fare ricorso da parte del controinteressato, dal momento che se io gli trasmettessi direttamente la comunicazione sarebbe frustrato ogni effetto di ogni potenziale ricorso, di ogni potenziale reclato. Nel caso invece in cui l'amministrazione intenda rigettare l'istanza, l'amministrazione, questo ce lo dice ANAC nelle linee guida 1309 del 2016, dovrà puntualmente motivare. Quindi cosa significa? Significa che l'amministrazione non può dire che esistono dei dati personali, no? L'amministrazione deve motivare qual è il pregiudizio concreto che dalla ostensione di quel documento potrebbero avere determinati dati personali, quindi devo argomentare concretamente e in modo assolutamente specifico e analitico, non mi basta dire, si tratta, rientrano nell'eccezione di cui. Avverso i provvedimenti in materia di accesso civico sono ammessi rimedi stragiudiziali prima di andare al TAR, prima o in alternativa, quindi posso andare subito al Tribunale Amministrativo Regionale Competente del Territorio, oppure posso effettuare prima una richiesta di esame responsabile della trasparenza che ha 20 giorni per provvedere, oppure posso andare dal difensore civico, laddove ovviamente esistente, nel caso in cui non esista, se c'è un livello territoriale immediatamente superiore, posso andare davanti a quel difensore civico che anche deve esprimersi in un tempo assai ristretto. Come vi dicevo prima e qui mi avvio alla conclusione nella consapevolezza che 20 minuti sono pochi, ma nella speranza di aver inserito alcuni elementi utili, tra l'altro in questo regolamento per l'accesso dovranno essere specificati anche i diversi rimedi stragiudiziali e come attivarli e scrivendo a quali recapiti e quali indirizzi. Queste sono le esclusioni e i limiti, ovviamente ci sono delle esclusioni assolute, segreto di Stato, credo che siano poche le vostre amministrazioni che abbiano a che fare su oltre 600 col segreto di Stato e ovviamente ci sono invece tutti queste esclusioni e limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati che devono essere rispettati. Naturalmente nel caso in cui io possa attraverso degli omissi o un'anonimizzazione consentire l'accesso ai dati e ai documenti sarà naturalmente opportuno, ma questo lo dicono bene del mio guida di ANAC a cui vi rimando per ogni integrazione, 1309 del 2016. Provo prima di ringraziarvi, i ricorsi al responsabile della trasparenza e a quello del difensore civico sono alternativi o successivi? Direi che sono essenzialmente alternativi, nel senso mi scello un rimedio stragiudiziale e dopo quello ho il rimedio al Tribunale amministrativo regionale. Bene, scusandomi se ho sforato, ma davvero ho provato a comprimere più informazioni che potevo in questi minuti che mi sono affidati nella consapevolezza di aver sicuramente lasciato molti temi aperti, ma nella speranza che ci saranno occasioni per sciogliere questi nodi io vi ringrazio per la stessa domanda. Sì Ernesto, ci sono parecchie domande, a questo punto avviso tutti i partecipanti che abbiamo sfrato un po' con i tempi, per cui quello che possiamo fare è rileggere con calma dopo il webinar tutte queste domande e eventualmente farne oggetto di un successivo seminario online a partire già dalla settimana prossima, quindi informo tutti i relatori che riceverete l'esportazione, la trascrizione integrale della chat e quelli di voi che vogliono eventualmente possono dare seguito a questo webinar con ulteriore attività da svolgere più avanti. Allora, non rubo ulteriore tempo alla dottoressa Marta Bagechi dell'ARPAT e adesso visualizziamo la sua presentazione, le lascio la parola, non prima però di sentirla in audio, prego. Sì, le chiedo di avvicinarsi un po' al microfono, nel frattempo ne approfitto per una comunicazione di servizio, a questo momento abbiamo più di 700 partecipanti collegati contemporaneamente, è un numero molto alto potete immaginare e vi comunico, qualcuno lo sta già chiedendo, le presentazioni già sono online, la registrazione ovviamente solo al termine dell'evento stesso. Prego, dottoressa Bagechi. Sì, buongiorno, sono Marta Bagechi del settore affari generali di ARPAT, l'agenzia regionale Toscana per la protezione dell'ambiente. Questa nostra partecipazione a questo seminario è dovuta sostanzialmente al fatto che come agenzia regionale per la protezione dell'ambiente abbiamo un'esperienza in fatto di accesso alle informazioni ambientali e di diffusione delle informazioni ambientali. La nostra normativa di riferimento è una normativa che si inserisce nella più ampia normativa sull'accesso alle informazioni, sull'accesso documentale, che nasce tuttavia nell'ambito di un disegno anche culturale a livello non solo europeo ma mondiale. Soprattutto perché trattandosi di interessi ambientali vi è un coinvolgimento necessario dei cittadini che vengono considerati come soggetti interessati a partecipare a quelli che sono i processi decisionali pubblici. Vale la pena ricordare la convenzione di Aorus del 1998 durante la quale sono stati sottolineati i tre pilastri di quella che è considerata la governance ambientale e cioè l'accesso alla diffusione all'informazione ambientale, ponendo l'accento sulla trasparenza e sulla necessità di organizzare le pubbliche amministrazioni al fine di rendere possibile l'accesso alla diffusione all'informazione, la partecipazione pubblica ai processi decisionali per cui ogni cittadino è considerato stakeholder e l'accesso alla giustizia. Quindi il non rispetto del diritto consente la possibilità per ogni cittadino di tutelarsi. In Italia nel nostro ordinamento la convenzione è stata recepita grazie anche al recepimento di una direttiva europea del 2003 nel decreto legislativo 195 del 2005 che è il decreto, il testo unico sull'informazione ambientale. La necessità di dare trasparenza all'informazione ambientale poi la ritroviamo anche in altre disposizioni normative come il decreto legislativo 152 del 2006 che è il testo unico in materia ambientale e anche in altre normative, in modo particolare quella sulla valutazione di impatto ambientale nelle quali comunque sempre si pone l'accento sul dare la pubblicità a quelle che sono le decisioni del decisore pubblico. Il decreto legislativo 195 tema di informazione ambientale pone dei principi fondamentali che rivediamo in un certo senso ripetuti quelli che poi saranno i principi che poi ritroviamo nella normativa successiva in base sull'accesso generalizzato, per cui è garantito ad ogni cittadino l'accesso all'informazione ambientale che è informazione detenuta dalla pubblica amministrazione e la garanzia della più ampia trasparenza e la messa a disposizione per i cittadini attraverso anche sistemi di diffusione telematici ed informatici. Quindi si dice che il diritto all'informazione ambientale sia uno strumento che ha una multidimensionalità, in quanto è uno strumento che può anche orientare quelle che sono le scelte del decisore politico, in quanto è uno strumento che consente ad ogni cittadino la partecipazione e conseguentemente anche il controllo su quello che è l'attività pubblica per quanto riguarda questa legge esclusivamente sulla tutela dell'ambiente. Quello che è importante anche sottolineare, perché accanto al diritto legislativo che è appunto del 2005, quindi in un momento antecedente a quello che è stato poi lo sviluppo successivo che stiamo assistendo dell'ampliamento dei principi di trasparenza e di accesso alle informazioni, abbiamo un fiorire di orientamenti giurisprudenziali. Questi orientamenti giurisprudenziali sono importanti anche perché in qualche modo ci servono a distinguere quello che è il diritto all'informazione ambientale rispetto all'accesso generalizzato, per cui intanto la pubblica amministrazione che gestisce le informazioni ambientali è obbligata ad acquisire le informazioni e a renderle accessibili anche mediante un'attività di ricerca e un'attività di elaborazione dei dati posseduti. Quindi noi siamo tenuti a rielaborare i dati, ricercare e rielaborare i dati, cosa questa che già nell'esperienza fatta è obbligato anche a sostenere un lavoro piuttosto oneroso per la messa a disposizione di dati che una volta raccolti possono essere dati grezzi che quindi vanno rielaborati affinché i cittadini possano leggerli e utilizzarli. Questa sentenza del Tappi Monte 2006 addirittura ci dice che per quanto riguarda la forma del dato il cittadino ha diritto ad accedere addirittura a registrazioni di tipo fonometrico, quindi qualsiasi forma di rappresentazione del dato deve essere resa accessibile. A differenza dell'accesso generalizzato, la normativa campanpentale ci dice che non è consentito l'accesso al fine di effettuare un controllo sistematico e generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, mentre è concesso l'accesso per un controllo diffuso in campo ambientale. Non solo è consentito l'accesso ai dati di monitoraggio e di controllo ambientale, ma anche alle misure che il decisore ritiene di mettere in campo. Per quanto riguarda la definizione di richiedente pubblico è analoga, in quanto ogni cittadino, ogni organizzazione, quindi anche persone fisiche e persone giudiche, noi abbiamo spesso nella nostra esperienza avuto richieste da parte di comitati di cittadini, che quindi sono portatori di interessi diffusi e la normativa ambientale considera il diritto di accesso all'informazione come un diritto di accesso autonomamente esistente, quindi non collegato ad un specifico interesse, proprio per consentire a tutti i cittadini un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Per quanto riguarda le case di esclusione dell'accesso, cerco di andare veloce perché il tempo a disposizione non è molto, tengo a sottolineare le cause di cui è al punto C e al punto D della slide, in quanto sono stati gli elementi che maggiormente ci hanno impegnati per escludere o limitare il diritto di accesso, quindi ogni volta ci sono stati chiesti di informazioni in ambito di procedimenti relativi ad indagini delegate dalla magistratura o ispezioni in campo ambientale, ci siamo trovati costretti ad opporre il segreto istruttorio e nella nostra esperienza e nel nostro regolamento, di cui poi accenneremo, ci siamo dati come regola addirittura il fatto di chiedere direttamente al procuratore la possibilità di far accedere il cittadino, però chiedendo ovviamente preventivamente la autorizzazione da parte del procuratore. Altro punto importante è valutare se nell'ambito della richiesta si potevano ledere delle informazioni commerciali o industriali. Ora, nell'accesso all'informazione ambientale non è prevista la notifica ai controinteressati, tuttavia spesso abbiamo ritenuto per quando ci siamo posti il problema di un'eventuale lesione dei diritti di proprietà industriali o di NAO, di chiedere all'impresa qual era la posizione, quindi di valutare l'esistenza o meno di una sottotella della riservatezza. Conseguentemente ci siamo trovati anche a dover limitare l'accesso. Ovviamente poi un'altra causa ricorrente può essere quella del cui è il punto F, quindi la riservatezza dei dati personali, mentre un'accezione specifica in materia che riguarda esclusivamente la legislazione ambientale è quella prevista dall'articolo 5, per cui ogni volta che si tratta di informazioni riguardanti le emissioni in ambiente queste cause di riservatezza non possono essere invocate. Questo perché è ritenuto preminente l'aspetto di tutela della salute pubblica rispetto alla tutela di cause di riservatezza. Tariffe perché? Perché continuamente all'accesso generalizzato, l'accesso alle informazioni ambientali può avere un costo, in quanto ogni volta la pubblica amministrazione debba ricercare e lavorare, appunto questo lavoro è oneroso e può comportare il pagamento di una tariffa che viene quantificata preventivamente. Nello specifico noi ci siamo dati dal punto di vista della nostra organizzazione e della nostra strutturazione intanto un regolamento che regola sia l'accesso all'informazione ambientale sia anche l'accesso documentale. Abbiamo redatto un elenco di procedimenti, sia amministrativi e tecnici, dove tecnici sta tra virgolette, in quanto in realtà il procedimento tecnico non esiste di per sé, ma esiste in quanto parte di un procedimento più complesso che sta in capo all'ente pubblico. Normalmente sono procedimenti di tipo autorizzatorio, dove l'agenzia esprime un parere tecnico o una valutazione tecnica. Però l'elencare questo tipo di procedimenti ci è servito perché ha consentito l'individuazione del responsabile del procedimento, cioè dell'endo procedimento, in modo che questo responsabile sia anche responsabile del procedimento di accesso. Poi abbiamo istituito il settore per la comunicazione e l'informazione, abbiamo attivato gli sportelli per le relazioni con il pubblico e abbiamo attivato un servizio di consulenza giudizio legale a favore dei responsabili del procedimento che appunto per lo più sono dei tecnici e che possono spesso avere delle difficoltà interpretative e applicative della normativa per la valutazione e per la fonderazione degli interessi in gioco. Fondamentali sono gli strumenti gestionali, quali gli archivi elettronici dell'informazione e dei documenti. Ci siamo dotati da anni di un sistema di gestione documentale, quindi ogni documento che entra in agenzia viene acquisito elettronicamente, viene archiviato elettronicamente, questo consente una maggiore facilità nel riferimento delle informazioni, degli archivi elettronici su web, quindi noi abbiamo le cosiddette banche dati su web che vengono popolate in continuo, dobbiamo realizzare il registro unico degli accessi perché ancora questa è una novità che dovrà essere realizzata, mentre l'archivio delle richieste di accesso sia agli atti che alle informazioni ambientali vengono registrate quando ovviamente sono formali e sono acquisite nel nostro sistema di gestione documentale come tutti gli altri documenti. Fondamentale nella nostra organizzazione è la definizione dell'ufficio per la relazione con il pubblico, in quanto sono degli uffici che rispondono sostanzialmente ad un numero verde e che fungono da collegamento con i cittadini e che riescono a dare delle informazioni riguardo alle modalità di accesso e addirittura a rispondere nell'immediato se hanno la possibilità e le conoscenze di rispondere immediatamente al cittadino che telefona oppure di dare informazioni come poter procedere per realizzare la richiesta di accesso. normalmente se non è possibile la risposta immediata viene fatta a formalizzare una richiesta, questa richiesta viene poi smistata al responsabile del procedimento che provvederà ad istruire la risposta in qualche modo, quindi utilizzando a sua volta i dati in possesso o facendosi supportare da altri soggetti. L'avere pubblicato le banche dati dà un ampio respiro alla possibilità di rispondere perché nelle banche dati sono contenute ovviamente tutta una serie di informazioni che sono o immediatamente accessibili o comunque utilizzabili da chi risponde, dal personale a disposizione negli uffici per le reazioni con il pubblico per poter dare delle risposte esaudenti. Esiste un sistema informativo regionale ambientale che è addirittura previsto dalla nostra legge e una serie di disposizioni anche facenti parte di un sistema di gestione della qualità per cui il cittadino può segnalare tramite esposto una segnalazione anche problematiche ambientali a cui l'agenzia ha la possibilità di dare seguito mediante una programmazione di attività. La legge 30 è la legge toscana numero 30 2009 che inserisce tra i principi fondamentali proprio quello dell'informazione ambientale. Questo ha fatto sì che l'agenzia si sia data un'organizzazione interna per assumere un ruolo proattivo, quindi non soltanto di semplice risposta alle stanze, ma anche un ruolo in cui si cerca costantemente di informare e di diffondere l'informazione ambientale. Gli strumenti quali sono? Del numero verde ne abbiamo già parlato. L'altro strumento è la realizzazione di una casella di posta elettronica a cui viene data risposta alle richieste dei cittadini. L'URP è considerato non un centralino, ma un centralino evoluto in quanto ha una funzione attiva sia di risposta sia di smestamento ai vari responsabili. Questo slide rappresenta alcune informazioni che possono essere utili e che danno conto di come siamo organizzati al nostro interno. L'attività fondamentale che riguarda la nostra agenzia è quella di raccogliere questa mole enorme di dati che abbiamo e che ci derivano sia dai monitoraggi ambientali sia dai controlli ambientali. Quando parlo di monitoraggio mi riferisco a centraline per la rilevazione della qualità dell'area piuttosto che ai punti di balneazione, mentre i controlli sono i controlli puntuali che vengono fatti sulle varie matrici ambientali e che sono programmati e effettuati tramite del personale specializzato. Quindi attività che comporta l'acquisizione di una mole notevole di dati che devono ovviamente essere organizzati perché sono dati grezzi. Quindi i dati vanno sia validati sia resi disponibili in qualche forma possibile alla quale i cittadini possono approdare. Qui sono un po' di dati che danno conto di quante notizie riusciamo a accumulare. Il sistema mediante il quale riusciamo a diffondere queste notizie sono vari, ovviamente sono tutti utilizzabili tramite web. Abbiamo la newsletter, quindi delle informazioni sia quotidiane, nel senso che gli iscritti alle newsletter possono decidere se averla quotidiana, mensile o settimanale. Abbiamo, ecco questo è un esempio di newsletter, un po' datata, che dà l'esempio della tematica e della capacità anche di approfondimento della notizia. Abbiamo infatti due attualità, quindi una rubrica sulla quale sono pubblicati articoli di interesse, precisazioni, quello che può in qualche modo aver preso il posto del comunicato stampa. Quindi anche risposte specifiche a richieste specifiche di cittadini. Questo è un esempio di notizie nella nostra rubrica. poi abbiamo le banche dati organizzate anche sotto forma di report che vengono standardizzati e prevedono delle strutture specifiche, delle strutture fisse. Questo è un esempio di report sulla qualità dell'aria, sul monitoraggio ambientale sulle acque superficiali e su risultati su altri tipi di monitoraggi. Poi importante è l'annuario. L'annuario che esiste in ARPAT dal 2012 viene redatto appunto annualmente e contiene al suo interno una serie di dati che vengono organizzati in maniera facilmente comprensibile. Questo è stato un grosso sforzo da parte della comunicazione, in quanto mediante un sistema facile e anche amichevole di presentazione del dato, è possibile per ogni cittadino accedere e vedere in maniera così molto semplice, utilizzando una infografica che non ha necessità di didascalie, comprendere quello che è lo stato dell'ambiente in Toscana, quindi quello che è lo stato dell'ambiente che può suscitare un interesse specifico. Questa slide fa vedere la percentuale dei sedi interessati da procedimenti di bonifica, quindi sono argomenti che effettivamente possono suscitare interessi per i cittadini e questo sugli inceneritori. Quindi, ritornando al discorso iniziale di come l'informazione ambientale può essere utile per ogni cittadino italiano per conoscere lo stato dell'ambiente, quindi per conoscere l'ambiente in cui si vive e anche per poter in qualche modo influenzare l'opinione pubblica e conseguentemente influenzare quello che è poi la decisione delle amministrazioni pubbliche. Io ho finito il tempo a mia disposizione, quindi vi ringrazio dell'attenzione. Perfetto, grazie. Sì, siamo leggermente in ritardo con i tempi, quindi io do subito la parola a Guido Romeo. Guido, non vediamo la tua webcam, se puoi provare a riavviarla. Nel frattempo carico la tua presentazione. Nel caso non dovessimo riuscire ad attivare la webcam ti chiedo di cominciare comunque il tuo intervento senza alcun problema. Prego Guido, vediamo se riusciamo a vederti, se no ti chiederai comunque di iniziare e non è un problema l'assenza della webcam, anche se ovviamente durante la prova che abbiamo fatto stamattina funzionava tutto correttamente, qualcosa doveva andare storto. Guido, ovviamente possiamo rinunciare alla webcam non all'audio, quindi in questo momento non ti sento. Prova a riattivare il microfono cliccando sull'icona che vedi nella barra di menu e intanto che tu attivi il microfono e webcam io vi ricordo che i materiali e le presentazioni utilizzate dai relatori di oggi sono già disponibili su Eventi Piano, la pagina dedicata a questo evento. La registrazione lo sarà brevissimo, appena terminato l'evento stesso e potete ancora iscrivervi agli eventi successivi della settimana dell'amministrazione aperta. Guido, continuo a non vederti, per cui ti chiederei intanto di attivare il microfono e nel frattempo ancora informazioni di servizio per prendere un po' di tempo, come avete visto le domande sono state tantissime, purtroppo non sempre siamo riusciti ad evaderle tutte, ma gli interventi erano particolarmente interessanti, quindi non volevamo interromperli, ma come vi dicevo anche tra l'intervento dell'avvocato Belisario e quello della dottoressa Bachechi abbiamo raccolto tutte le domande che inoltreremo ai relatori e poi vedremo assieme a loro qual è la modalità migliore per poter dare seguito a questa attività. Guido, ti sento, ti vedo, prego, avvicina un po' il microfono. Ciao a tutti, so di essere l'ultimo ostacolo tra voi il pranzo, quindi cerco di andare dritto al punto. Io sono giornalista, scrivo per i soli 24 ore, in passato ho lavorato molto per Wired, dove abbiamo fatto moltissimo uso delle richieste di accesso agli atti. La ragione per la quale mi interesso di foia è, diciamo, che sono stato, per esempio, fulminato sulla via di Damasco anni fa, da queste dichiarazioni di re Adolfo di Svezia che hanno più di 250 anni. È vero che tutti attribuiscono una trasparenza alla rete, ai personaggi con Timberland e Slim, ma è una cosa storica che è data molto più antica. Per darvi due coordinate di chi sono e dove vengo, sono stato anche tra i principali animatori della campagna Foglia For Italy che credo molti di voi abbiano visto negli anni passati e che è stata un po', insomma, ci piace pensare per noi che abbiamo partecipato, che è stato lo stimolo poi per la politica che ha portato alla riforma del decreto 33 e quindi all'introduzione di questo diritto dell'accesso giornalizzato. Allora, le opportunità. Io qui, della nemesi del giornalista, faccio la parte della casalinga di Boghera, questo archetipo giornalistico che è un po' lo stereotipo dell'utente. Per i giornalisti è un'opportunità fondamentale. Questa Scores on Doors è la prima cosa che io vidi quando cominciai a interessarmi di accesso negli anni 2007-2008. Questa era un'app che girava negli anni, al tempo non era nemmeno un'app, inizionato al 2009 l'app, ed era un servizio che esiste ancora oggi in Canada, in Inghilterra, in America e che permette di valutare, di sapere se il ristorante che sta entrando, ha superato le ispezioni sanitarie e quindi se la sera vai a casa col mal di pancia oppure no. Capite che cronaca locale questa è una cosa interessantissima, è stato impossibile farlo perché la legge 241 ai tempi non permetteva di rifare in Italia per questioni di privacy. Un'altra applicazione che è estremamente interessante del FOIA è quella che per esempio c'è con i visitatori della Casa Bianca. Abbiamo anche qui un'app, i dati che costruiscono in un'app e permettono di vedere chi sono i visitatori e di vedere per esempio chi ai tempi incontrava Barack Obama. Adesso sarà interessante vedere che cosa viene rilasciato su Donald Trump. Dubito che ci siano delle spie russe che vengono in maniera così evidente a trovarlo a Casa Bianca, ma sicuramente fino all'attuale presidente, al precedente presidente è stato estremamente interessante come cronaca per capire chi incontrava i grandi decisori. Un esempio cliccando su Obama si vedono appunto Anna Berger che era sua consulente per il lavoro, era una sindacalista molto nota negli Stati Uniti, Robert Wolfe era consigliere economico, quindi si ha immediatamente un'idea di che cosa succede. Ci sono anche storie molto più giornalistiche, molto più di cronaca, un classico del genere per i giornalisti che si interessano di dati, io insegno spesso anche data journalism e l'ho praticato, lo pratico ancora parecchio e un dato molto interessante è per esempio quello sulla criminalità, quindi dove avvengono i porti di macchine, dove avvengono le frazioni, perché questo caratterizza un territorio, un quartiere. In Inghilterra e in America questi dati sono liberamente accessibili, anzi è la stessa pubblica amministrazione che li diffonde, la polizia, le frazioni dell'ordine li diffondono perché permettono ai cittadini di avere una percezione migliore di che cosa succede di stare più attenti, ovviamente c'è anche una questione reclutazionale come nel caso dei dati sulle tossicazioni alimentari, sulle ispezioni sanitarie, perché diventa immediatamente una questione reclutazionale. In Italia ottenere questo tipo di dati è possibile, ma non con la granularità che vediamo all'estero, perché c'è stata al posto fino adesso una questione di privacy. Privacy che praticamente a me sfugge, e non voglio entrare adesso in polemica, ma mi sfugge perché debba essere privacy, perché a livello diciamo micro, puntuale, questi dati in realtà appaiono poi nelle cronache, nelle cronache locali, quello che non sarebbe utile avere è poi invece un'aggregazione, quindi una visione più di insieme. Ecco, poi parlando di cose ancora più serie, un caso che io cito sempre ai miei studenti giornalisti di giornalismo è quello dell'incidente di Ustica, questo è l'Italia, è il 19 che venne abbattuto. Perché c'entra il FOIA qui? Il FOIA c'entra perché un collega giornalista, Claudio Gatti, ha fatto un bellissimo lavoro sull'incidente di Ustica, ottenendo dagli archivi americani, moltissimi documenti attraverso il FOIA, documenti che neanche gli stessi inquirenti italiani hanno mai posseduto, tanto che Claudio è poi stato chiamato dai giudici che indagavano su Ustica perché potesse fargli visionare i documenti che aveva raccolto. Stiamo parlando di log di volo della nave Saratoga, della portale di Saratoga, documenti del Pentagono, attraverso questi documenti, Claudio è riuscito a provare che non c'erano per esempio aerei americani in volo nel cielo di Ustica quella notte. Queste cose capite che per un giornalista sono estremamente preziose. Ovviamente ci sono dei limiti che sono quelli del segreto di Stato, ma il segreto di Stato viene apposto in maniera molto puntuale. Questo è un esempio di come si importa nelle autorità americane, se qualcosa non è coperto dal segreto di Stato, non c'è qualcosa contro, allora per default è qualcosa di accessibile. Un altro caso che a me piace citare moltissimo è quello inglese di un ingegnere nucleare che potendo accedere ai documenti sugli sistemi di sicurezza di un impianto nucleare è riuscito a vedere, a verificare che c'erano dei problemi, dei rischi non contemplati e dalle norme di sicurezza in migliore. Quindi diciamo, non possiamo dire che l'ingegnere, il nostro cittadino ingegnere ha sventato un incidente nucleare, ma sicuramente ha reso la centrale nucleare del suo paese più sicura. Questo è stato quello che mi assomiglia molto a quello che succede nelle revisioni dei software open source, cioè un tecnico che non fa parte del team spesso vede e trova un bug, un barco che invece non è stato individuato dalle persone che ci hanno lavorato direttamente. Non abbiamo provato a ottenere questo tipo di dati in Italia, anche se certamente sarebbe interessante vedere questioni di sicurezza industriale. Ora, rischi. Abbiamo detto che è una grande opportunità per i giornalisti, ma anche per i cittadini, per tutta la società nel suo complesso, la società italiana, ma ci sono dei rischi nel foglia. Non parlo tanto di rischi per le autorità, ma parlo di rischi nel fare fallire questo nuovo istituto che io trovo preziosissimo, trovo sia uno dei dati più incoraggianti del 2016. Allora, se vi trovate di fronte persone come la nostra Martina Caligiuri del AS di Lecco, siete molto fortunati. Come giornalista io ho avuto a che fare con la dottoressa Caligiuri perché il 23 dicembre 2016 ho chiesto a un campione molto molto vasto di ASL italiane un'informazione molto semplice, anzi tre informazioni. La prima era quanti erano i ginecologi e i loro dipendenti, quanti di questi fossero obiettori di coscienza e infine aperta erano quali erano i nomi di questi obiettori. Non vi dico adesso come sono state le risposte, anche perché usciremo presto, a breve, con un articolo su questo, ma la cosa importante da notare nella risposta della dottoressa Caligiuri è la data. Io l'ho mandato, ho mandato la richiesta il 23 dicembre, lei il giorno stesso mi aveva risposto. Questo è, secondo me, il comportamento più virtuoso che ci possa essere, almeno dal punto di vista formale, perché rispondere subito per tempo nell'arco della prima settimana è preziosissimo sia per l'amministrazione, perché ci sono quei famosi 30 giorni di cui abbiamo sentito, che cominciano a decorrere da quando vi faccio la domanda, sia per il giornalista, per l'utente, che naturalmente ha interesse a ottenere una risposta in tempi abbastanza brevi. I giornalisti, devo dire, su questo fronte sono estremamente impatenti, anche perché i nostri tempi sono accelerati rispetto a quelli di un semplice cittadino, come potete ben capire dalle nostre esigenze pubblicazioni. Questo è un altro esempio virtuoso, secondo me, perché comunque in meno di una settimana la Michela Rosetta ha risposto, quindi segnalo che ci sono degli ottimi casi e c'è la capacità di gestire questo tipo di processi in maniera molto rapida. Il rischio, quindi, sostanzialmente è quando non ci sono dei colleghi delle amministrazioni così solleciti e noi lo chiamiamo, tra amici, il rischio del foglio alla matriciana, cioè un po' di confusione, si perdono i primi 15-20 giorni. Per la cronaca, nelle richieste che ho fatto, vi dico che soltanto un 25%, meno del 25%, ha risposto alle mie richieste, nel senso che ha avuto una replica di domande e quindi ancora quello che è il silenzio di niego, se vogliamo, è stato altissimo. Questo io trovo il dato più rischioso, perché non entriamo neanche nel merito di che cosa si diedeva, ma se l'amministrazione non risponde, svuota completamente l'istituto del dialogo con il cittadino. In più, espone il giornalista a un grosso rischio e anche l'amministrazione. Io sono stato proprio a causa di un'email persa e ho dovuto ricorrere al TAR per un procedimento in cui devo l'accesso a dei documenti dell'amministrazione delle Comunità e delle Finanze sui derivati di Stato e la cosa che ci ha stupito molto in questo procedimento è che sì, l'amministrazione non aveva risposto, ma non è che applicasse un silenzio di nego. Poi nelle sue carte di difesa di fronte al TAR ha scritto chiaramente che la PEC, quindi la posta elettronica certificata, che dovrebbe essere lo strumento più sicuro, era stata in realtà smarrita. Quindi non avevano proprio visto la mia domanda. qui siamo a un problema di gestione della corrispondenza che non permette neanche di iniziare un discorso su che cosa si sta richiedendo e sulla licità e quindi impone un peso molto forte sul cittadino e sul giornalista. Per chi non avesse familiarità il ricorrere al TAR è una procedura molto complessa perché richiede diciamo almeno 500, più di 500 euro di tasse soltanto per aprire la pratica e in più si fa attraverso un avvocato. Potete capire che un cittadino normale queste cose, un privato cittadino magari non le fa semplicemente perché non se le può permettere. Un organo di stampa spesso viene dissuasio. Se pensate che poi molta della stampa di oggi è fatta da giornalisti freelance, stiamo completamente uccidendo la possibilità dei media di utilizzare questo tipo di strumento. Il silenzio a senso poi l'abbiamo visto, il silenzio di nego, perdonatemi, magari ci posso silenzio a senso, ma il silenzio di nego l'abbiamo visto in casi come questo, quello della VNR Capitolina in cui semplicemente non si è arrivati a ottenere niente. Questo era un accesso fatto con il decreto 33. L'abbiamo visto nel 2013, io sono tra i fondatori di un'associazione che si chiama Diritto di Sapere, che è la principale organizzazione italiana per quello che è il diritto all'accesso, assistiamo moltissime persone, moltissime organizzazioni non profit nel fare richiesti di accesso. Questo monitoraggio che facciamo nel 2013 utilizzando soltanto la 241 perché al tempo non c'era neanche il decreto trasparenza, il primo attimo del 33, i dati furono terribili perché c'erano un 73% di risposte non soddisfacenti nel quale poi si nasconderono un 65% di silenzio amministrativo. Questo al tempo ci aveva messo al gradino più basso d'Europa nella qualità di risposte della pubblica amministrazione. Segnalo che, con Diritto di Sapere, stiamo ripetendo questo esercizio e all'inizio di aprile al pezzo di giornalismo di Perugia presenteremo i risultati. Spero molto di vedere risultati molto migliori di quelli di tre anni fa. Il rischio quindi è che venga incoraggiata quella che vediamo da anni, quel muro contro il quale ci siamo scontrati per anni come giornalisti e che la cultura della pubblica amministrazione, di certa pubblica amministrazione, di dire questo sì sarebbe divulgabile, ho il dato, però poi devo pensare alle conseguenze, all'effetto che fa. Forse mi viene a dire, non è all'amministrazione di pensare se la gente si spaventa. Questa che vi faccio vedere è un pezzo di un'inchiesta che facciamo sulle scuole rischio sismiche, dove il responsabile dei dati sugli edifici scolatici diceva sì, ce li ho, però sa, le persone se gli dico che la scuola delle loro figlie ha rischio, poi si spaventa e infatti eravamo tutti molto preoccupati dei dati che vedevamo perché c'era pochissima trasparenza ancora prima di dire che c'erano dei rischi nelle scuole. Soluzioni e qui vado a finire con qualche minuti di anticipo spero, soluzioni sono piattaforme. So che alcune pubbliche amministrazioni come in Toscana hanno già dei sistemi informativi diciamo evoluti per gestire questo tipo di richieste al loro interno. Noi come diritti di sapere abbiamo immaginato una piattaforma, immaginato, abbiamo già implementato una piattaforma che si chiama Chiedi, che trovate all'URL Chiedi, che stiamo predisponendo anche per che sia norma di foglia, cioè che permetta di identificare l'utente allegando la carta di identità. Il sogno per il 2017 è che questo diventi un punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni. Stiamo vedendo che molte pubbliche amministrazioni ormai tengono traccia di che cosa gli viene chiesto attraverso la piattaforma, una piattaforma crea un'email, quando è possibile anche un'email certificata per interlocuire con le pubbliche amministrazioni e ha il grande vantaggio di permettere al cittadino di non dover andare a cercare l'ufficio perché cataloga da sola, cioè da sola i ragazzi che ci sono dietro li catalogano ma hanno già al suo interno tutto un database di responsabili trasparenti, di ufficio protocollo ai quali viene mandato automaticamente l'email. Quindi per il cittadino non dico che sia una passeggiata perché comunque ci vuole una certa competenza nel chiedere, nel capire cosa aveva chiesto, ma è sicuramente molto accelerata, molto semplificata e poi naturalmente la piattaforma tiene conto di che cosa è già stato chiesto, permette di effettuare ricerche, quindi ha tutti i benefici quelli che sono i sistemi di piattaforma e anche per l'amministrazione che ha la sua pagina individuale e dà la possibilità di mostrare quali sono già le risposte date senza dover ripetere sempre, rispondere sempre alle stesse richieste che sono uguali. Io vi ringrazio, vedo che c'è una chat molto animata e forse se avete ancora voglia, la glissomina non è troppo bassa, possiamo rispondere a qualche domanda. Guido, sì, se vuoi, abbiamo ancora, l'ho già sparato di qualche minuto, ma se i nostri partecipanti sono interessati possono anche fermarsi ancora un po' con noi e proviamo a rispondere a qualche domanda. Altrimenti, come dicevo, anche per gli interventi precedenti rileggeremo dopo il webinar tutte le domande arrivate in chat e poi vedremo qual è la modalità migliore per dare seguito alle richieste, come preferite. Ci sono domande che sono per avvocati qui perché dice quando è possibile utilizzare domande su informazioni ambientali che sono già strutture dall'agente giudiziaria, preferisco che qui a rispondere sia a Belisario che sicuramente più titolato email. Credo che tutto quello che sia oggetto di indagine sia in qualche modo escluso al FOIA, però ci sono persone più preparate qui. C'è una domanda, quali sezioni dell'attuale box dell'administrazione trasferente sono utili dei giornalisti? Una delle più utili è avere, che ci siano i riferimenti del responsabile della trasparenza da contattare, sicuramente tutte quelle che sono le sezioni relative ai corsi della politica. I corsi della politica io non li ho nominati nel rapido elenco di cose che possono fare giornalistiche nel FOIA, ma sono un classico, i cosiddetti scontrini politici sono tra le cose che vengono più coperte da tutti i media in tutti i paesi. In Inghilterra sono diventati proprio un pane quotidiano. In Italia ancora questo viene fatto, ancora abbiamo tantissimi problemi a ottenere spese disaggregate, perché molti amministratori aggregano per, se non addirittura per semestre, ma comunque per mese e quindi viene, è difficile di capire se una somma di 3.000 euro al mese per viaggi e ristorazione è una somma congrua, una somma eccessiva oppure no, perché non si capisce che cosa c'è dentro. Va bene, Guido, io direi di fermarci qui, sono le 13.40, quindi abbiamo sforato un po' rispetto al previsto e grazie a tutti per la partecipazione, vi do qualche dato, nel picco massimo abbiamo avuto oltre 730 partecipanti, una platea da convegno, da congresso, più che da seminario e al termine alla chiusura del webinar verrete rindirizzati sulla pagina dell'evento stesso di oggi, dove troverete tutti i materiali e link ai webinar dei prossimi giorni. Se non riguarda le domande a cui non abbiamo potuto dare una risposta, potete immaginare, sono state veramente tante, proveremo a trovare qualche altra modalità nelle prossime settimane. Grazie a tutti per la partecipazione e buona settimana.